Giulio aveva tre anni quando seduto al ristorante Ikea di Bari mangiando una polpetta rimasto senza respiro. Soccorso probabilmente troppo tardi dai sanitari del 118 rimasti intrappolati nel traffico il piccolo è morto 20 giorni dopo in ospedale. Era il settembre del 2013. Ora nel ricordo di Giulio a Campobasso la Salvamento Academy ha organizzato un incontro con genitori, nonni, insegnanti, babysitter, personale delle mense per ricordare che quello che è capitato a Giulio può capitare a qualsiasi bambino. Il soffocamento da cibo a causa di altri oggetti che i piccoli ingurgitano nella loro sperimentazione del mondo e tra le prime cause di morte per i più piccoli e nella coincitazione di quei momenti che vicino al bambino viene preso dal panico spesso rimane bloccato e non sa che cosa fare oppure compie gesti sbagliati che aggravano la situazione. Se quel giorno all'Ikea ci fosse stato qualcuno capace di compiere le manovre di disostruzione pediatrica forse Giulio oggi sarebbe ancora vivo. È importantissimo che tutti i genitori imparino le manovre da fare in questi casi è come loro tutti quelli che si occupano del piccolo, si è detto durante l'incontro. Sapere cosa fare in quei momenti in cui il piccolo annaspa senza respiro impedisce anche di andare nel panico e sentirsi impotenti prima e schiacciati dal senso di colpa dopo. In Italia il 27 per cento delle morti infantili classificate come accidentali sono dovute a soffocamento dovuto a corpo estraneo e solo il 5 per cento della popolazione, compreso il personale sanitario, conosce le manovre di rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base. Troppo, troppo pochi. Per cui alcune regioni stanno correndo i ripari e tra queste il Molise con un'apposita proposta di legge promossa dai consiglieri Fusco, Sabusco, Iorio e Cavaliere per promuovere la conoscenza delle manovre di disostruzione pediatrica e rianimazione e creando anche una rete di persone formate che possano intervenire come primo soccorso.